Come riuscire a guadagnare online con questo sistema, anzi con questo insieme di sistemi che uso io personalmente, quindi mi raccomando segui il video fino alla fine perché è un metodo che funziona e sto testando io personalmente da anni, ok? E man mano lo sto ottimizzando e adesso andremo a vedere come fare. Mi raccomando se sei interessato a questa tipologia di argomenti non è che da iscriverti al canale, attivare la campanellina per notifiche, mettere un bel like al video e commentare così mi supporti facendomi crescere sul canale YouTube e quindi guadagnando più soldini. E potendo portare contenuti sempre migliori su questo canale in cui parlo comunque di business online, tecnologia e crescita personale. Se non mi conosci io mi chiamo Massimo, sono un imprenditore digitale e in questo canale appunto trattiamo il business, il business online, guadagnare online, arrotondare lo stipendio, insomma crearsi anche un'attività propria online. Quindi mi raccomando segui il video fino alla fine. Allora, dov'è il concetto? Se vuoi iniziare a creare, a costruire qualcosa online, devi anzitutto capire a che nicchia ti devi rivolgere. Quindi decidi l'argomento di business su cui ti vuoi orientare e una volta scelto quello non dovrai fare altro che creare anzitutto un canale YouTube su quella nicchia e iniziare a caricare video dove tu parlerai o creerai a limite video con intelligenza artificiale se non vuoi creerli direttamente, oppure ti crei un clone con l'intelligenza artificiale dove fai parlare il clone come se fossi te, vedi tu, ci sono diversi tool su questo canale, ho fatto un sacco di tutorial dove spiego come fare queste cose, vatteli a vedere e quindi creerai un canale YouTube ovviamente per risparmiare, parliamoci chiaro, fallo direttamente tu il video se vuoi metterci la faccia come faccio per esempio io e andrai a parlare di vari argomenti su quella nicchia di business che hai scelto. Contemporaneamente, facciamo un esempio, su quella nicchia che hai scelto magari scriverai uno o più pubblicazioni, più libri. Come si fanno i libri? I libri ho spiegato anche su questo canale, ma ho fatto anche dei corsi sul mio sito web massimopellegrino.net puoi scrivere libri anche con l'intelligenza artificiale, quindi ti puoi far supportare nella scrittura sia del libro che della creazione della copertina da poter mettere in venta su Amazon piuttosto che su piattaforme quali per esempio Gumroad. Non sarà facile nel senso che purtroppo non è una cosa che tu potrai fare e realizzare in pochi giorni. Qua stiamo parlando di creare un sistema che mirerà a permetterti di vendere grazie al tuo personal brand che andrai a creare. Però se non cominci ovviamente non arriverai mai da nessuna parte. Creato, quindi tornando al discorso, il tuo canale YouTube, andremo a creare parallelamente dei prodotti digitali che possono essere appunto PDF o direttamente libri su Amazon in formato Kindle piuttosto che acquistabili in formato Gartaccio e nei video in cui tu parlerai di questa nicchia di business andrai a mettere poi i link invitando all'azione agli utenti dicendo in descrizione, nei commenti ti lascio il link al mio libro e la gente andrà a vederlo e lo potrà acquistare. Questo è un modo per poter ovviamente guadagnare. Non è l'unica cosa, nel senso che tu puoi anche associare a tutto questo anche un tuo sito web. Un sito web in cui si rilassi anche una sezione blog e perché no anche un e-commerce magari su cui vendere magari la pubblicazione digitale in PDF per esempio del tuo libro, ok? Ovviamente devi essere capace a costruire un sito web, un blog e un e-commerce, a sapere scrivere un articolo, a fare in modo che anche il sito, l'articolo stesso, i prodotti siano caricati in una maniera corretta in modo che si indicizzino bene sui motori di ricerca e quindi magari su chi va a cercare su Google quella cosa o un argomento inerente a quella nicchia di business magari uscirei tu nella prima pagina di Google o magari come primo risultato o tra i primi due o tre risultati. Per fare questo dovrai scrivere articoli, quindi quello che ti consiglio è di prendere i contenuti dei tuoi video, convertirli in testo e per ogni video creare un articolo nel cui metterai anche il link al tuo video YouTube con l'anteprima e anche il link per effettuare l'acquisto delle tue pubblicazioni sia che siano in vendita sul tuo sito web, sia che siano in vendita per esempio su Gumroad come ho fatto un sacco di tutorial su questo canale, vi faccio vedere come fare e poi andando a mettere eventualmente anche il link di Amazon per chi lo volesse acquistare in modalità Kindle o cartaccia perché comunque io spingo sempre sul dire che per la vendita è anche un libro perché molti lo comprono ancora in versione cartaccia quindi utilizza questo sistema tramite Amazon. Ovviamente, e questo lo dico un attimino tra le righe, ma è molto importante se sei interessato a imparare tutte queste cose in una maniera molto veloce ti consiglio di accedere alla mia Academy dove ti insegno tutto questo, ok? e con 348,50 euro accedi al bundle di tre corsi della Massimo Plugin Academy dove ti insegno tutto questo, ok? lo puoi acquistare direttamente, quindi facendo un clic su acquista ora viene reindirizzato alla pagina di acquisto come vedi qua è specificato che cosa andrai a imparare e comunque sono specificati i tre corsi che sono contenuti e il valore di ogni singolo corso perché volendo li puoi acquistare anche sicuramente e puoi anche pagare in tre commoderate con Paypal in più è specificato tutto l'elenco delle lezioni incluse nel pacchetto di corsi sono tre corsi che sono utili per chi, diciamo, sta cominciando a affacciarsi su questo discorso del business online ed è agli inizi, quindi soprattutto per chi non ha competenze e vuole partire da zero perché come si apre un canale YouTube come lo si apre nella maniera corretta come si caricano i video come si scrive un libro come si mette in vendita un libro su Amazon come scrivere il contenuto del libro con l'intelligenza artificiale come creare la copertina come fare le campagne pubblicitarie per vendere, spingere di più le vendite del tuo libro ok? tutte queste cose poi come creare un sito web un blog, un e-commerce come si fa? beh, durante il corso c'è nella parte del corso ma nei web che da solo quello verrebbe 299 euro ma nel bundle di corsi lo trovi incluso nel pacchetto da 348,50 euro ti insegniamo a creare questo sito formazioneonline.altrevista.org che è il sito che spiegherò nel corso come crearlo da zero mettere, quindi creare proprio un sito web completo di menu completo di sezione blog completo del banner dei cookie vedici, qua ci sono gli articoli qua c'è anche il click per acquistare il tuo prodotto o comunque acquistare una eventuale consulenza come utilizzare il link di Paypal all'interno come poter mettere in vendita che cosa? corsi tuoi, prodotti digitali tuoi addirittura in affiliazione ok? questo è tutto spiegato durante il corso quindi, tornando al fulcro dell'argomento questo è un metodo che permette di creare col tempo intanto crearti un personal brand su quella nicola che se sei esperto, sei una determinata nicchia di business che può essere, che ne so il business online la cucina il cucito la fotografia il social media management sei esperto di SEO sei esperto di programmazione scegliti la nicchia e costruisci un canale YouTube in più il canale YouTube quando raggiungerà diciamo i requisiti per poter essere monetizzato ovviamente ti permetterà di guadagnare soldi dalla monetizzazione di YouTube ok? e ti spiego anche quali sono i requisiti nel corso cosa devi fare e quant'altro quindi perché no provare a diciamo queste tutte queste cose poi il fatto che tu voglia prendere il mio bundle di corso no quello è un altro discorso però se comunque provare tutte queste cose non ti costa nulla ti costerà del tempo perché dovrai creare un canale YouTube fidelizzare i tuoi iscritti e ricordatevi una cosa che una volta che si raggiungerà il il limite minimo per poter richiedere la monetizzazione quindi 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione per avere la monetizzazione full completa 4000 ore di visualizzazione negli ultimi 365 giorni ovviamente non è non è tanto il discorso del numero di iscritti che farà gli farà guadagnare ma saranno le visualizzazioni quindi è inutile che andrete a spammare sui sui gruppi Facebook richiedere iscrizione a gente che poi comunque oppure scambio di iscrizioni di view con gente che non gliene frega niente del vostro canale perché andrete solo che a ledere il vostro canale in quanto quegli iscritti non saranno fidelizzati e non guarderanno mai i vostri video quindi è inutile arrivare alla monetizzazione se poi nessuno guarda i vostri video poi a seconda della nicchia cambiano i guadagni anche perché se parli di intrattenimento guadagni poco se parli di business produttività crescita personale finanza trading criptovalute guadagni anche fino a 10-15 volte di più ok? però bisogna cominciare quindi questo è un sistema che permette col tempo di crearti una piccola rendita che poi potrà diventare una rendita passiva perché si tu pubblicherai video costantemente almeno un video a settimana almeno se non due e a quel punto lì riuscirai a far crescere la community che ti segue e concentrerai le e incanalerai queste visite sui tuoi video a compiere un'azione di acquisto o di atterraggio su un tuo sito web o acquisto di un prodotto digitale che è messo in mente su Gumroad su Amazon in più su questo canale youtube trovi un sacco di tutorial gratuiti che ho fatto dove ti spiego anche come vendere pdf su Gumroad completamente da zero poi se invece non hai dei prodotti tuoi non hai il tempo di crearli do la possibilità tramite la mia academy di diventare nostro affiliato basta fare click su diventa affiliato e a questo punto tramite la piattaforma Gumroad una volta iscritto e una volta che verrà valutata la tua richiesta di iscrizione da mio team avrai la possibilità di vendere i miei prodotti che sono in vendita su Gumroad i prezzi qua non preoccuparti sono già al netto di IVA in quanto poi l'IVA viene aggiunto in fase di checkout e tu vendendo questi prodotti potrai guadagnare un 10% di commissione al netto appunto dell'IVA che è già al netto di IVA qua e al netto del 10% che sono le commissioni che si trattino a Gumroad ok quindi questo è un sistema di un metodo per poter guadagnare online molto semplice senza nemmeno dover creare i prodotti ovviamente dovrai o farci delle campagne pubblicitarie o spingere il prodotto sui social network o spingere il prodotto condividendo i link insomma non è che da solo si vendono le cose noi però ti diamo già la possibilità di guadagnare cioè se tu vendi un corso da 300 euro ti fai 30 euro ne vendi 10 te ne fai 300 capisci vendi 100 corsi in un mese te ne fai ti fai allora sono 348 348,50 ok quindi diviso non ti facciamo per 100 ok ti fai 3485 euro vendendo allora questo qua diviso 100 per 10 ok 3485 euro ti fai ok vendendo 100 corsi in un mese ovviamente non è che sarà facile vendere 100 corsi in un mese ma anche se ne vendessi 10 ti fai 350 euro circa 300-350 euro di commissioni che non è male assolutamente quindi quello che voglio dire iniziare online è possibile ed è possibile per tutti io ho utilizzato questo sistema e funziona nel senso che in più vabbè io essendo che parlo di business mi occupo anche di siti web blog e e-commerce ho deciso di dare anche la possibilità di acquistare la consulenza sì perché tu puoi se sei un consulente puoi vendere la tua consulenza acquistabile direttamente online tramite il tuo sito web e questo è un metodo molto abbringativo perché innanzitutto ti permette di avere un incasso istantaneo anzi un pagamento anticipato per il servizio che andrai a offrire e a quel punto poi veramente dovrei mettere la regola di fattura ecco certo per fare attività di e-commerce ricordo sempre che è indispensabile l'apertura della partita IVA così come anche fare consulenza o vendita di consulenza online comunque richiede la partita IVA a meno che tu non decidi di fare una prestazione occasionale per una consulenza spot di massimo 30 giorni allora ok comunque per quello ti rimando eventualmente a un tuo commercialista se non è un commercialista dei riferimenti in descrizione del video trovi il link agli amici di Viscozen con il quale potrai avere la prima consulenza gratuita e 50 euro di sconto sul primo canon annuale di abbonamento per eventualmente la gestione della partita IVA per l'apertura e la gestione della partita IVA con loro io mi ci trovo bene ho la gestione della mia ditta individuale con loro quindi ve lo consiglio quindi tornando a noi questo è un metodo di unire più sistemi quindi sito web un blog un e-commerce un canale youtube materiale digitale creato su varie piattaforme Amazon Gamera e quant'altro per permettervi di crearti un'infrastruttura di reddito che poi potrà diventare un reddito passivo una volta che avrai tutto su questa roba si muoverà da sola e ti permetterà di guadagnare inizialmente poco fai 2-3 euro al giorno 5 euro 10 100 1000 insomma devi cominciare mi raccomando se hai dei dubbi scrivimi nei commenti ti potrò rispondere e soprattutto fammi sapere per eventuali perplessità se sei intenzionato eventualmente ad acquistare il bundle di corsi lo trovi in offerta sul mio sito web basta fare click direttamente sul banner grafico sul pulsante acquista ora e niente iscriviti al canale e noi ci vediamo presto alla prossima puntata ciao 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 Grazie a tutti.